amici di prof digitale ben ritrovati questo è un nuovo esperimento ho deciso dopo il successo della prima pillola del prof vi ringrazio veramente tanto di aprire una nuova rubrica una rubrica che in realtà c'era di già all'interno del canale che sono le recensioni quindi farò delle recensioni per voi di materiale didattico di materiale che può essere utilizzato all'interno delle scuole ma non solo materiale che ha a che fare con l'elettronica la robotica e tutte cose che insomma hanno a che fare con l'innovazione all'interno della scuola italiana inizio quest'oggi con un prodotto che mi ha veramente stupito e come avete visto nell'introduzione sono questi piccoli blocchetti piccoli blocchetti che si chiamano neuron neuron di make block è un kit per l'elettronica educativa che consente di realizzare già con questa piccola scatola diversi progetti che possono essere realizzati da bambini dai sei anni in su ma mando alle ciance vi lascio direttamente alla recensione ed ecco l'inventor kit nella sua scatola che permette di realizzare già diverse esperienze di elettronica educativa adatto per i bambini dai sei anni in su questi sono gli elementi di base questo è il blocco power quindi quello che alimenta tutti gli altri anche questo magnetico viene caricato tramite usb ed è sicuramente uno dei fattori chiave il fatto che si debba ricaricare solo ed esclusivamente il blocco power e non tutti gli altri ovviamente il funzionamento è semplice i blocchi sono magnetici e ovviamente il colore contraddistingue le varie tipologie di blocco quindi quelli blu sono gli output i blocchi arancioni sono gli input invece i verdi sono quelli per l'energia e per il bluetooth collegando il buzzer al elemento power questo suona ma se aggiungiamo l'elemento giroscopio succede questo quindi un'attività molto molto divertente e già da questo i bambini riescono a capire la differenza tra input e output e ovviamente abbiamo anche il piccolo led quindi ci siamo dedicati alla costruzione di una delle varie delle varie esperienze che sono già predisposte all'interno dell'applicazione neuron e l'applicazione è veramente ben fatta perché consente di vedere ciò che fa il il singolo il singolo oggetto e si viene guidati attraverso delle immagini attraverso dei video nella costruzione dell'oggetto che si è scelto quindi come vedete c'è la la lista dei dei vari blocchi che servono per la costruzione del nostro oggetto noi abbiamo scelto il il coniglietto con il viso luminoso quindi dobbiamo prendere le orecchie e come vedete all'interno della scatola sono sono presenti praticamente tutte tutti i componenti in cartone ottimo cartone devo dire che si può già realizzare all'interno con con la semplice applicazione quindi si prendono i pezzi si separano si selezionano i vari vari pezzi come vedete i blocchi bianchi che vedete che erano nel fondo della scatola sono magnetici anche queste servono per appoggiare i blocchi veri e propri e dare più stabilità al proprio al proprio progetto quindi dobbiamo prendere la nostra scatola e il video ci guida nella nella creazione appunto del del simpatico coniglietto quindi dobbiamo prendere e costruire questa scatola a un bordo adesivo e il che ci rende sinceramente molto più semplice la vita come vedete mio figlio sta già sperimentando con con i vari blocchi quello che si può fare e come vi dicevo è veramente tutto molto intuitivo passa tutto attraverso il gioco e i bambini capiscono da subito il funzionamento di questi blocchi e come effettivamente come vedete sia molto facile anche poi con di collegare le varie le varie board per costruire la base su cui poi andrà il il circuito quindi aveva bisogno di del blocco power del blocco led e del blocco bluetooth che poi ci permetterà di collegare il nostro il nostro circuito all'ipad inseriamo il il circuito all'interno del della scatola e sarà poi la la testa del nostro coniglietto apriamo l'applicazione neuron colleghiamo al bluetooth e il collegamento è veramente immediato e questa è la parte di coding quindi non solo c'è una parte di elettronica educativa quindi semplicemente collegare i vari componenti ma i componenti sono programmabili tramite bluetooth utilizzando l'ipad e come vedete otteniamo l'effetto desiderato cioè quello di animare la faccia del coniglio e come vedete qui i bambini si possono divertire a disegnare proprio sul sul pad led quindi disegnare le varie faccine cambiare colore è veramente molto intuitivo mio figlio si è divertito tantissimo e come vedete sta colorando di rosso la faccia del coniglietto si dà il tasto play quindi anche i comandi sono veramente molto intuitivi anche per bambini che sanno leggere da poco si preme il tasto conferma e istantaneamente come vedete il il viso che è stato progettato viene poi condiviso sulla sulla board led e come vedete sto trascinando i vari blocchi quindi è programmazione a blocchi come quella di scratch ma fatta in maniera leggermente diversa con queste linee che se non altro per i bambini ancora molto piccoli rendono decisamente più semplici le cose perché è proprio una catena di di azioni e quindi di input e output che poi si traducono come vedete nelle nelle va nei vari giochi luminosi in questo caso ma ovviamente ci sono tantissimi altri progetti da realizzare perché i componenti sono veramente tanti infatti questo è il progetto il progetto finito del coniglietto vi faccio vedere quello che abbiamo fatto successivamente con il il funny touch qui è sempre mio figlio che una volta iniziato non ha poi più smesso di di giocare con con il suo coniglietto con il funny touch è poi possibile fare quello che si fa in buona sostanza con il makey makey ovvero far suonare gli oggetti vi faccio vedere subito ed anche questo ha un'esperienza molto interessante bene cosa ne pensate di neuron fatemelo sapere nei commenti se il video vi è piaciuto un bel like una condivisione ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale se l'idea delle recensioni vi piace provate a darmi anche dei suggerimenti in merito a quali prodotti volete che vengano recensiti all'interno del canale fatelo all'interno dei commenti qui sotto quindi per le recensioni del prof l'appuntamento è molto presto con un altro prodotto vi ringrazio alla prossima